C'era una vendita di alcolici e superalcolici a ragazzi di età inferiore a 16 anni, anzi dirò di più che in un caso abbiamo anche accertato la vendita ad un ragazzo di età inferiore a 14 anni. Servivano alcolici e superalcolici, soprattutto birra e vodka anche a minori, per questo è scattato il sequestro preventivo per il minimarket alle mie spalle, ci troviamo in piazza Guido Monaco. Le indagini della polizia locale erano partite a seguito della notte di Halloween 2017, quando numerosi giovanissimi, alcuni nemmeno sedicenni, erano finiti al pronto soccorso per un'intossicazione alcolica. Sono state sentite decine di persone, in molti casi giovani, alla presenza dei loro genitori. Da queste dichiarazioni siamo venuti a dipanare la matassa e a individuare alcuni locali che avevano operato in maniera non consona a quella che è la vigente normativa. Questa mattina l'esercizio commerciale è stato posto sotto sequestro preventivo, sequestrati tutti i beni materiali e la licenza. Contestualmente è stato nominato un amministratore giudiziario che abbiamo immesso nel possesso e il quale dovrà procedere a tutta quella parte che è prevista nel provvedimento del giudice di pace di Arezzo. Il titolare del locale, un 36enne cingalese, non rispettava nemmeno il divieto di somministrare alcolici dopo le 14, nonostante una specifica ordinanza del sindaco. Questa non è una prima risposta, è una delle tante risposte che l'amministrazione dà all'uso non corretto dei pubblici esercizi, che sono poi alla fonte di quel fenomeno molto pesante, molto brutto, che noi cerchiamo in tutti i modi di risolvere, che è quello legato all'abuso di alcol da parte dei giovani.